Sì, ma infatti ha detto che adesso Maria vuole sentire il veterinario direttamente. Ma sono stati microcippati gli altri o non ancora? Non lo so. Devo chiedere al veterinario a Ivan. Non lo so, volevo qui trattarmelo. Ok. Cosa mi ha chiamato? Va bene, grazie. Sì, grazie. Chiara, dai, fai da mangiare e facciamo fuori. Comunque sta prendendo un pochino di confidenza. Sì, ma basta poco. Sì, non è molto. Ma quella lavora è una zecca, gli dici non la bocca sotto. Eh, è probabile. Non lo so, io non le riconosco. È la prima volta che le vedo. Ciao ciccio. Che sta prendendo, zia Chiara? Che sono? Vedi se viene più qua. Eh, non lo so, ci provo, ma non è molto facile. Buttalo a terra. Faglielo vedere che lo lanci un po' più là, così magari si muove. Bene. Valla a prendere tu adesso. Prendilo. Forse è per il sole, l'ombra, non so. Bisogna andarci un pochino piano quello che dice. Non forziamolo. Anche perché comunque lo dobbiamo forzare per mettergli il sole. Quanto peserà, Claudia? Secondo me è intorno ai 25 kg. Secondo me è abbastanza alto. Guarda, ce l'ho io. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non ti faccio niente. Vieni qua. Grazie a tutti. Ciao, bello. Quella sull'orecchia è una zecca. È probabile. Uso questo qui così vi faccio guardare, faccio lo sguardo. Cosa? Non ce l'ha più là. Non so dove devi guardare. Ti sei riuscito? No, non ce l'ha più là, guarda. Io non la vedo. E secondo me si è grattata e è caduta. Misteri. Biscottino. E poi piano piano se lo tira. Bravo. Dai, camminiamo un poco, vieni. Vieni. Che gioco stiamo facendo? Vieni, dici. Ma perché non me lo dai? Poi mi sfotti. Chi? No, fa piano. Fa piano, molto piano. Sa chi lo teneva, Claudio. Chi lo sa. Amore. Ehi, vieni a piano però. Ma ho finito di dire che sei un cagnolino delicato. Bravo. Ce l'ha in bocca la zocca? Non credo. Non credo. Non credo delle cose strane. Aspetta, voglio prendere. Ciao.